Oddio guarda con la fang Minchia! Mi sa di trajordona Eh si sta fang qua Posta mi sa Mi sa di trajordona Restito 100 Scommento che se è la prima a venire amcinata si uccide Ah dici? Hey Max! Hello! Hey Max! Ma chi è? Ma si metto il default Ma se... Sarà da Epic È scenico dai mori Che figa Gli devono da una modifica Ma io tipo Che è una merda Schifo dai Che cazzo serve? No tu dimmi a che serve Ah fico, a me piace Ma nooo Knacker Porco zio Ha saltato dai Che palle adesso Ma si abbiamo un Cheater Ed è Epic Sta qui Sta qua è Cheater Ha saltato Che palle Facciamo un Cheater contro Cheater Porco zio La magliana di Twitch No ma non è Cheater La feng si La feng Ah io ho capito No 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 La feng Ha saltato Si si E come Eccola eccola vai Dai uccidila Dai uccidila Prendila feng Che buono Lo sto portando Eh bastardo E' un po' che vado a fare un gen Dai però è noioso Che così Già da questa partita di merda Vabbè Questa di merda Vabbè Vabbè Ma ci sono due Facci punti almeno Eh ragazzi Ecco ho iniziato a seguirla Vediamo adesso quanto si teletrasporta in giro Eh infatti infatti sono proprio curioso guarda Ecco vedi Ah no aspetta Non lo stavo più seguendo Ho detto ecco c'è teletrasportata Eh infatti Le mani che ci si deve Questa ma Ecco le che racccia E' qua sopra Sì 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 Sarà lì sopra Per forza Oddio Ma che cazzo Ma che cazzo Ma che ha saltato Ma che ha saltato Ha saltato Eh si eh Ma che ha saltato Ha saltato Ma che cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo Ma che ha saltato E' forte Che cazzo che cazzo Ma che cazzo ha sommato Pire È nce Ma che cazzo Ed må che cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo Ehhh Ma questa cazzo Si Macomprendiamo Eh speriamo È buona ma poi non la vedo neanche è sparita è sopra eccola eccola guarda speedhack cosa fa cosa fa a mettere una trappola non mi può uncinare non mi può uncinare sta buttando da da madonna dai dai cosa fa cura nulla ti sta curando a te scommetti che tra pochi secondi sono guarito si 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 sta curando l'aria lei ecco che sono guarito adesso sono guarito vabbè mi ha curato a oltremappa dai ma dai che divertimento c'è è ferma vai uccidami dai uccidami non può fare niente poveretto uccidami ma mi sa che mi sa che ha abbandonato coppato via forse è su scavetta giusto non lo piace ma che cazzo è ma cos'è ma se è un coglione in prestigio 100 ma che cazzo ma si ma se mai ci hai citato quel prestigio fisso a differenza del mio senza fare il figo bene le portiamo in massa madonna ma mai vi amavo alla maria ma l'occurata da distante c'è ma che cazzo dai uncino mi c'è niente può farci finire la partita ah ok ok si ok 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 come ha fatto con si 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 no ma ha detto mia moglie di andare a riportarlo guardando il mio vod dalla schermata si 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 eccola eccola non c'è ma che ti immagina tutti i dalla mappa probabile cioè non mi stupirei che potesse fare una cosa del genere ma che fastidio fa la sua risetta ma quanti gente abbiamo fatto scusa questo è il quarto ecco ti sta curando l'altra mappa sono rimasto un po indietro ecco christian tra pochi secondi sarai guarito guarda te l'ho detto tanto è curato da distante ora se fai saltelli diceva max lo vedi lo vedi l'ambuleto di twitch se stima citandolo sarebbe ma hanno beccati è ma non penso che gli sviluppatori darebbero l'ambuleto a un citer no 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 di certo è citato ma fatti andare vai hai visto è scomparsa si 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 ma sia che Inferno di merda vai oppure capisci capisci oh prendì inifer Prendi con te! Dio bono, del Dio! Ah, vabbè! Ma ragazzi, ma che cazzo è? Allora, vediamo un po' che minuto è? Merissimo! Sì, un'altra! Non ci sanno neanche, guardate! Hai visto? Stelta sparta! Non è una nuova! Vabbè, 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 vabbè! Vabbè, vabbè, vabbè! Cos'è sto? Vabbè, vabbè, vabbè! Mi aiuto! Ancora anche tu lo sei? Madonna ragazzi! Appendimi un po'! No, ma vuole te, eh! Vuole! Ma per forza, no! Non c'è, dai! Non c'è, dai! Non c'è, dai! Non c'è, dai! Vai, apri! Ma, ma, ma! Dimmi che mi... Dimmi che... Aspetta che apro... Con un attimo opera... Allora... Allora... Vabbè, scusate, è una partita... Una partita del genere cosa devi fare? Madonna ragazzi! Ma l'alito in culo! Allora... Che partita, adesso segnaliamola in massa adesso? Sì, sì! Aspetta, ecco... Ah, no! Devo andare su contenuti... Sì, sì! Tutta l'aria nella grappola, no? Lo so sfigato! Come la merda! Cazzo! Ah, no! Devo andare su canale, devo andare! Ma ecco la... Beh, ha aperto lei, eh! Non io! Sì, sì! Allora, sta andando nel VOD! Bravo, hai fatto bene! Segnalala adesso, eh! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sto guardando qua! Aspetta, eh! Sì! Metti segnala per abuso, Cristian! Metti segnala per abuso, quello lì con l'ingranaggio! Sì, sì! Allora... Allora... Tan tan tan! Vediamo un po' il... Il timer... Allora... 28.11... 28.12... 28.17... Allora... Tan tan tan... Madonna... Allora... Cheater... Speed... Speed... Axe... Jump... And... Other... Check... From... Bit... Voodoo... Nerva... And... 28.17... mi hai detto... Ma... Che ti stai facendo? Eh, sto... È... Questo è il motivo per cui ha segnalato. 17 ciao maci buonasera celfa buonasera cioè che ci sono i suoi atlas mod ok a posto o report mi vuol dire che il chat chupa chupa